Vengono assegnati quattro apprezzamenti, viene tenuto in considerazione la condotta e l'amore che avete per il lavoro e l'attaccamento alla divisa. A chi dedica questo riconoscimento e un commento, una battuta su quella che è stata la sua vita in divisa? Dedico questo riconoscimento a mio padre che mi ha trasmesso tanti valori che adesso non c'è più. Quei valori che ho trovato nel corpo di polizia penitenziaria, il senso della giustizia, del trattamento, della sicurezza. Sono fiero di indossare questa divisa e la sento proprio mia. Io ho scelto questo ruolo perché in famiglia c'era un altro, mio fratello che era sotto ufficiale. Mi sono appassionato, ho fatto la domanda e quindi da lì sono partito e mi trovo fino adesso benissimo. Prima di essere qui sono stato a Catania e Piazza Lanza. Io dedico questa premiazione alla mia famiglia e ai miei cari che non ci sono più, a mio padre e a mio suocero. Ho scelto di lavorare nel corpo della polizia penitenziaria perché ho sempre creduto alla divisa e ho sempre creduto al ruolo della polizia, dei carabinieri, di tutti i corpi di polizia dello Stato. Ho lavorato immensamente, mi piace indossare questa divisa. Mi trovo a Gela dopo quasi 28 anni di servizio. Io lo dedico a me stesso. Dopo tanti anni di servizio ho un giusto riconoscimento con l'impegno che si è avuto durante tutti questi anni.